Sulla ordine dei lavori, anche per richiamare le ragioni per le quali Fratelli d'Italia, in quasi perfetta solitudine, sta animando un dibattito su un tema che invece tra l'opinione pubblica è un tema quotidiano. Siamo al paradosso delle cose che riguardano il Parlamento, si parla ovunque meno che in Parlamento. Noi siamo qui oggi come Fratelli d'Italia a denunciare con questo nostro proliferare di interventi puntuali che costantemente richiamano quelli che sono gli argomenti che dai bar fino a Palazzo Ghigi vengono trattati con grande attenzione. Oggi ringraziamo il Sottosegretario Costa della sua presenza, ma anche qui il Governo è assente nei temi, essente negli approfondimenti e noi richiamiamo questo Parlamento, se mi vuoto, all'attenzione che invece meritano provvedimenti di questa natura e chiediamo, e per questo stiamo sottolineando con una serie di interventi molto lunga e molto ampia, la richiesta e la necessità che questo non diventi un votificio. Questo Parlamento sta diventando un votificio, il Governo fa un decreto e poi ci si organizza per stargli dietro. Mi si richiama anche in queste ore, quando finirete, finiamo quando finiamo, quando abbiamo trattato un argomento, quando si metterà la fiducia. La fiducia dovrebbe essere un caso eccezionale, è diventata una costante, si esula dai meccanismi parlamentari propri che prevederebbero invece un dibattito che nasce dal Parlamento e finisce al Governo. Qui è diventato il contrario. Noi assistiamo, e lei, Presidente Rosato, che è attento alle dinamiche parlamentari, rispettoso delle situazioni, quanto noi, immagino, soffra questo clima che si sta instaurando. Ecco, allora, lo vogliamo chiarire. In un momento, in una fase storica particolare come quella dell'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, che deve essere garante di questo modello. Lei si figuri che 58 parlamentari hanno scritto al Presidente Mattarella, attualmente siamo in attesa di risposta, probabilmente non ha ancora avuto tempo di approfondire il tema della lettera, ma era il tema che oggettivamente abbiamo richiamato, abbiamo chiesto al Presidente della Repubblica di garantire, in continuità con quella che fu una lettera che, peraltro, forse lei, quando apparteneva al gruppo del Partito Democratico, sottolineò, sui tempi di approvazione della finanziaria. Ancora siamo in attesa di conoscere l'esito di quella discussione che nasceva da motivazioni analoghe a quelle esposte dal Partito Democratico e sanzionate, immagini un po', dal Ministro Cartabia, che all'epoca fu relatore e disse che non dovrà mai più accadere. Poi al Governo lei fa accadere la stessa cosa. In questa nazione sta sparendo il dibattito parlamentare, sta sparendo il rispetto delle regole che ci tengono insieme. Allora, fratelli d'Italia, insiste anche in perfetta solitudine perché il Parlamento resta il centro della democrazia. E lo facciamo in prossimità dell'elezione del nuovo Presidente della Repubblica, intasando i lavori, ci è stato detto. Attenzione che se parlate troppo arriva l'altro decreto, poi c'è una questione di opportunità che ci impedirà di mantenere un calendario che ci impedirà magari di riposare la notte. Ecco, fratelli d'Italia non riposa. Fratelli d'Italia è qui, fratelli d'Italia dibatte, porteremo questo dibattito avanti, a oltranza, su ogni tema. E lo facciamo non per noi. Lo facciamo per noi, lo facciamo per voi, lo facciamo per la dignità del Parlamento, lo facciamo per la dignità di un popolo italiano che all'interno della Costituzione ha il Parlamento come centro, cuore, pulsante della nostra democrazia. E che il Presidente della Repubblica, che auspichiamo, sia garante delle istituzioni, senta anche questo nostro richiamo, che sarà una condizione che noi mettiamo anche per il nostro voto, in supporto a chi si impegnerà a garantire da adesso in poi che il Parlamento torni centrale. Grazie, Onorevole.